Ormai è da un bel po' che non incontro nessuno. Forse sono tutti morti. La cosa positiva di tutto questo è che non credo finirò sotto accusa tanto presto. Ehi! C'è qualcuno? Lo sapete chi sono io? Sono Jackie V! Cazzo! Merda! Pensavo di avere più proiettili. Presto mi serviranno delle munizioni! Merda! Quasi a secco! Devo prendere bene la mira. Fra un minuto quest'arma sarà utile come la bacchetta di un prestigiatore. Qui mi servono dei proiettili! Merda! Sono completamente a secco! Dov'è la mia arma di riserva? Devo trovare subito dei proiettili! Con chi devo parlare per avere qualche proiettile? Quest'arma non vale niente senza munizioni! E quindi hai intenzione di vedertela con quel brutto mostro? Cazzo! Che Molotov spettacolare! Mi è piaciuto come hanno urlato quando li ha beccati. Forse dovrei tenermi stretti questi piccoli bastardi esplosivi. Merda! Così piovretta alla grande! C'è un destino peggiore della morte? Beh, mi sa che devo averlo appena visto. Ehi! Guarda che stai assaltando un agente! Adesso ti do una sistemata! Indietro! Sono io a fare le domande qui! Il giudice ci andrà giù pesante! Hai appena firmato la tua condanna a morte! Quest'affare sembra più duro di mia suocera! Questo dovrebbe facilitarmi un po' la vita! Alcune di queste armi sembrano cannoni in miniatura! Ma guarda! Appare l'incrocio fra una mitraglietta e una corazzata! Non darei uno di questi affari alla signorina! Finirebbe per spararci per sbaglio! Qualsiasi cosa ci sia in questo barattolo è andata a male! Merda! Questa roba pare arrivata dritta dal patologo! E vai! Ecco la piccola piovra super incazzata! Dai! Piovretta! Andiamo a fare un po' di casino! Tu sei uno dei mostri buoni, vero? Non ho mai sparato con due pistole! Mi sa che presto lo faranno tutti i poliziotti! Non vedo l'ora di stenderli due alla volta! Ascolta! Credo di essere l'unico qui a saper usare davvero un'arma da fuoco! Saranno anche due! Ma la potenza di fuoco lascia ancora a desiderare! Non credo che questa roba servirà a un granché! Wow! Cazzo! Non so se voglio sapere cosa c'è dentro quella roba! Una volta ho beccato un tizio che voleva far saltare la cassaforte di una banca! L'idiota a momenti ci restava! Non so se è una buona idea armeggiare con degli esplosivi! Questa roba gli toglierà il sorriso dalla faccia, insieme alla pelle! Una bella esplosione dovrebbe conciarli per le feste! Da dove arriva questa roba? Com'è possibile che sia qui? Ma che cazzo sta facendo? Mi sa che il fuoco rapido me lo scordo! Il regolamento prevede che io mantenga una certa distanza fra me e loro! Inutile lamentarsi! Quello che è fatto è fatto! Questa roba mi sarebbe servita nell'irruzione da sal! Mi sa che mi hanno proprio fregato! Questa scatola è un'armeria in miniatura! Vorrei sapere come funziona! Ehi, mago! Per caso c'entri qualcosa? Ho 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 ho! E ora facciamo sul serio! Cazzo, che arma! Mai visto niente del genere! So riconoscere una truffa, sai? Questa cosa è progettata per tormentarci! Quella scatola di merda se l'è filata! Una pistola? Ce l'ho già una pistola! Ehi! Non sono così idiota da non capire che succede! Oh, grazie! Proprio quello che non volevo! Dovrei affrontare questi mostri con una pistola! Pistole come questa noi le diamo alle reclute! Una pistola a raggi? Ti sembro Buck Gordon? Mi prendi in giro? Sembra un cazzo di giocattolo! Dovrò confiscare quest'affare! Continua così, scatola! Forza! Cazzo! Sapevo di essere fortunato per quanto possibile in questa situazione di merda! Mmm! Non mi lamento di certo! Un fucile a canna liscia è sempre un ottimo amico! Di questi ne tengo uno nel bagagliaio e uno sotto il letto! Gli altri due non ricordo dove li ho messi! Ehi! Posso avere una bella mitragliatrice Gatling? Cazzo! Non so se questa roba mi servirà a qualcosa! Con una di queste il proibizionismo sarebbe stato più efficace! Sembra una mitraglietta però più piccola! Una mitragliettina? È il momento di regolare un po' i conti! Però che abbia abbastanza munizioni! Certo che è leggera! Potrei impugnarla con una mano sola! Mi piacerebbe usarla a cavallo un'arma del genere! Quando Jackie V prende la mira non sbaglia! Anche senza luce! Jackie adesso va a caccia! I sospetti sono brutti, mezzi marci, probabilmente morti! Chiunque abbia informazioni contatti una stazione di polizia! Se devo essere sincero! Quest'arma fa schifo! Cos'è? Arriva da qualche spettacolo di mostri! Quell'uovo sta bollendo o cosa? Sta succedendo qualcosa all'uovo! Si prepara a una specie di gran finale! Porca puttana! Mi sa che abbiamo appena combinato un casino! Abbiamo aiutato l'uomo ombra a portare i suoi grossi padroni nel nostro mondo! Hai un bel coraggio mostro! Che c'è? Volevi che ti uccidessi lentamente? Non andrò giù così facilmente! Te ne pentirai molto presto! Non metterti contro di me! Tieni lontani gli artigli, mostro! Mi hanno sparato tre volte in servizio! Non basta un graffietto per spaventarmi! Non hai niente di meglio da fare? Sei morto, bello mio! Morto! Stai cercando di ridurmi come te! Avanti, non ci pensare, Floyd! Conosco il tuo promoter! Era un truffatore! Continui a buttarti giù da solo, non avrai bisogno di avversari! La boxe è uno sport corrotto di base! Non perderci il sonno! Fare fuori il mio informatore non è stato un problema! Quello era un verme! Il mondo sta meglio senza di lui! Però il mio partner... Merda! No, lui non lo meritava! Certo, avevo i miei problemi! Avevo una moglie che non smetteva di lamentarsi per quanto bevevo, quanto mangiavo, quanto fumavo, anche su quanto scopavo! Giuro, un'ulcera grande come Staten Island! Cazzo! Nessuno mi ha mai detto bel lavoro, Jackie! Nessuno mi ha mai detto grazie per aver mantenuto sicure le strade! Nessuno mi ha aumentato lo stipendio per impedirmi di dovermi vendere per pagare i conti! Nessuno lo ha mai fatto! Nessuno! Capito? Cos'è questa, nero? Una confessione? Ehi! Non avevi altra scelta! E smettila! Poteva andare peggio! Poteva finire ad Alcatraz! Parla pure con me, dolcezza! Ti darò una spalla su cui piangere! Sembri davvero convinta? Ah, per favore! Non pensare che io non abbia problemi del genere! Senti, ho ucciso un sacco di persone! Brutta gente! Cerca di essere più preciso! Questa volta non tornerai! Chiudi quella bocca! I tuoi strilli sono finiti, mostro! Adesso non parlate più? Eh? Stavolta muori davvero! Ma andiamo! Nemmeno ora te ne stai zitto! Ti ho spappolato le parti basse, per questo urli tanto! Perché non strisci via e muori? Oggi non faccio prigionieri! E sai perché? Perché sono Jackie Vincent, cazzo! Fossi in te, chiamerei il mio avvocato! Ehi, resta dove sei! Ultimo avviso, brutto figlio di puttana! Ah, merda! Che c'è? Qualcos'altro di brutto? Avrei preferito una sentenza diversa! Direi che è stata una piccola vittoria! Direi che è andata bene! Che posso dire? Io le cose le faccio! Ehi, mago! Sai cos'è questa roba? Una cosa del genere mi sarebbe servita di pattuglia! Quando il gioco si fa duro, compra un'arma! Oh, sono abituato a scoprire all'improvviso qualcosa di utile! Non so come funziona questa roba, ma mi inventerò qualcosa! Credo che questa indagine sia giunta a un punto morto! E adesso? Ho esaurito tutte le piste! Questo caso è a un punto morto! Morto stecchito! Una gomma da masticare! Tutto qui! Come rubare una caramella a un bimbo! Senza bimbo! Oh, queste macchine sono autorizzate dal comune! Spero di non rompermi un dente! Oh, questa è la mia preferita! Cos'è che era? Non so se vale i soldi spesi, ma almeno è buona! Il mio partner adorava la gomma da masticare! Quanto mi dava sui nervi, cazzo! Mi sa che poi la mando giù! Non si sputano le gomme sui marciapiedi! Chissà che farebbero! O se gli facessi scoppiare un bel pallone in faccia! Beh, Jackie V sa camminare e masticare una gomma insieme! Ma è un giocattolo! Perché questo sembra! Spero che questa roba non mi scoppi in mano! Ma che cazzo ho messo insieme? Brutto essere nei tuoi panni, vero? E sa che è tardi per chiedere un avvocato! Scommetto che quando ti sei alzato stamattina non pensavi che sarebbe stata l'ultima volta! Quindi Nero non è il solo a saper fare magie, eh? Ehi, Floyd! Era all'incontro della settimana scorsa! L'hai conciato male! Eri davvero scatenato! Un animale! Vai! Tu sei nel giro dei combattimenti! Sai come funzionano queste cose! I debiti si pagano! È la legge del più forte! E non so che ne pensi, ma per me l'amico mago e belle tette non ce la faranno! Cerchiamo di essere realisti! Quei due idioti non fanno che rallentarci! Che ne dici di allearci e... Hai capito, no? Maledizione! Non credo nelle maledizioni! Il destino lo scriviamo noi! Deve esserci un modo per sfuggire a questo incubo! Ehi, mago! Tu hai qualcosa a che fare con tutto questo? Ti è partito un incantesimo o roba del genere? Quale libro? Allora, parlavi di un libro che potrebbe spiegare questo casino! Sai cosa? Inizio a pensare che non sei un cazzo di quello che sta succedendo come noi! Sai cosa? Ti consiglio di starmi lontano! Inizio ad avere la sensazione che sia tu a portare sfiga! Ehi, dolcitette! So chi sei e so cosa fai! Non potrei fidarmi di te neanche in punto di morte! Lo sai che da sola non andrai lontano! Con me almeno avrai una possibilità! Quindi il mago... Secondo te sa qualcosa che noi non sappiamo! Questa storia sembra pane per i suoi denti! Sapevo che ci avresti ripensato! Meglio con me che con l'idiota o lo stregone! Sai che lo farò, tesoro! Anche se so che mi pianterai in asso appena potrai! In cerca di guai? Mi sa di sì! Chi cazzo vi ha invitato? Ehi, quest'area è sotto il controllo della polizia! C'è qualche problema? Ora lo risolviamo! Ehi! Non mi arrendo ancora! Tutto qui? Avanti, forza! 5 dollari che non ci riproverai più! Non intendo farmi divorare! A volte ci vogliono le maniere forti! Levati dal cazzo! La prigione è troppo poco per te! Caso chiuso! Credo di aver usato la quantità di forza necessaria! Ecco come lavoriamo noi del dipartimento! Ehi! Senti la carne che brucia e sfrigola? Tanto ormai sarai abituato a morire! Lo sai di essere già morto! Ehi! Hai il diritto di rimanere in silenzio! Ti lascerò nella polvere! Sparisci da qui, fottuto bastardo! Dovresti essere proibito per legge! Il mandato dice vivo o morto! Tu cosa sei? A volte la morte è l'unica soluzione! Mi sa che hai sbagliato persona! Ma tu non vivevi da queste parti! Ok, a chi tocca ora? Al mondo ci sono due tipi di persone! Tu non appartieni a nessun tipo! Mi piace di più quando tieni la bocca chiusa! Hai il diritto di chiudere quella cazzo di bocca! Nessuno piangerà la tua morte! Buonanotte, faccia di merda! Stai fermo! E dormi! Almeno non dovrò informare i tuoi parenti! Penso che sia pronta a gettare la spugna! Beh, mi sa che l'hai sistemato! Non vuoi interrogarlo! Non c'è dubbio! Una vittoria schiacciante! Ben fatto! Non aveva scampo! Certo che non scherzi, eh? So che ti piace sparare, ma non sapevo frequentassi il poligono! Potresti darmi una mano, ragazza mia? Che ne dici? Oh, centro perfetto! Spari bene! Tratti così i tuoi ammiratori? Secondo me l'hai preso per caso! Smettila coi trucchi da quattro soldi e fallo di nuovo! Bel colpo! Te lo concedo! Beh, penso che ci sia arreso! Non gli hai neppure letto i diritti! Un consiglio! Evita di cacciarti nei guai! Giù! Zitto! Morto! Ma lo sai chi sono? Questo è il mio territorio! Tornatene nel tuo inferno! E muori un po'! Uh, oh sì! Non so dove sei andato, ma vedi di restarci! Non tollero la presenza di bande! Dovevi ascoltare il procuratore! Forse potevate trovare un accordo! Spiacente ragazzi! La legge è legge! Vi ho appena ordinato di levarvi dai piedi! In galera non ci state tutti quanti! Sono un bravo agente, ma una brutta persona! Meglio non rompere le palle! A Jackie V! Caso chiuso! Omicidio multiplo! Grazie, ma nessun indagato! Non avrò pace finché non avrò trovato l'assassino! E gli avrò offerto davvero! Credo di essermi appena guadagnato una bella medaglia! Uh, quel figlio di puttana non voleva arrendersi, eh? Quella cosa è morta davvero? Era ora, cazzo! Quel figlio di puttana si è battuto bene! Nessuna delle tue teste riuscirà a sfiorarmi! Non perderò neppure tempo a leggerti i diritti! Non vuoi cedere senza combattere, eh? Sei cocciuto come un mulo, devo ammetterlo! Ultima occasione per una morte silenziosa! Non hai intenzione di morire in silenzio, eh? Pena di morte per te, bello! Non costringermi a fare sul serio! Mi sa che ti ho sistemato a dovere! Smettila di urlare, tanto quella non era la tua unica testa! Adesso voi mostri siete anche extra large! Oh, cazzo! Adesso sì che sono nella merda! Non ti avevo già ucciso! Hai battuto mia moglie! Lei di facce ne aveva soltanto due! Beh, questo è un colpo che fa male! Dobbiamo riuscire ad aprire! Siamo rinchiusi come animali! Non amo sentirmi dire di no! Chiuso fuori? E se usassi una forza adeguata? Devo tirare fuori il distintivo! Eppure sono stato educato! Voi buffoni credete di farmi paura? A voi stronzetti conviene girare i tacchi e filare via! Ehi! Basta avvisi d'ora in poi! Oh oh oh! La forza sta nel numero, eh? Beh, io non mi tiro certo indietro! Qui per qualcuno finisce male! Per caso, serve una mano? Tutto sotto controllo, vero? Comincia a pensare che tu non sia poi chissà che! Oh oh oh! Ehi! Meglio a te che a me! Vediamo come te la cavi questa volta! Ehi, Miss Rose! Stasera il tuo è proprio un grande show! Se ti aiuto! Cosa mi dai in cambio? Devi cavartela da sola, bella! Io non voglio entrarci! Hai intenzione di morire combattendo? O intendi morire e basta? Oh oh oh! Sarà divertente! Cosa farai? Sparirai? Il pubblico mi sembra piuttosto ostile! Mago! Che fai ora? Tiri fuori una colomba dal culo e voli via? Ci siamo? È il gran finale? Mi sei stato subito sulle palle! Adesso sì che si ragiona! Ehi! La prossima volta, sconto del 50%! È bello vedere che sostieni il tuo dipartimento di polizia! Questa merda fa sul serio, vero? Jackie V è contento! Presto qualche mostro proverà sulla sua pelle questa roba! Avanti! Non ho tutta la giornata! Ecco un oggetto davvero interessante! Vorrei che il dipartimento ci passasse cose del genere! Non so come, ma questa merda funziona e tanto mi basta! Non dovrei bere in servizio, a dire il vero! Fino a poco tempo fa questa roba era proibita! Il whisky di Fino Liri aveva un sapore migliore! Per fortuna con tutto quello che fumo sento pochi sapori! Non so come descrivere quel sapore! Ce l'ho sulla punta della lingua! Ahia! Da quanto tempo era qui questa merda! Questa è proprietà del dipartimento di polizia! Riconosco il codice del distintivo! Era quello del mio partner! Dov'è il mio partner? Gli è successo qualcosa? Sai, vista da vicino, questa roba sembra scadente! Non ha senso! Una cosa del genere abbandonata in giro! Peccato che il banco dei pegni sia chiuso! Con questa tiravo su qualcosa! Quindi è tutto scritto qui! Come questi hanno attaccato quelli per la loro roba! Chiaro! Scusate, ma è un terremoto! Non voglio sapere cosa esce da questa roba! Quest'uovo non mi piace per niente! Spero che quest'uovo valga la fatica! Ai! Questa roba scotta! Cos'è? Una specie di enorme granata! Che cosa devo farci con questo? Ho esaurito le idee! Immagino che possa servire! Sto raccogliendo prove! Jackie V è stanco di portare roba in giro! Soltanto un idiota totale può indossare un parrucchino! Ehi! Che ci faccio con questi capelli? Quale idiota indossa una parrucca? Aspetta un attimo! Nero! È tua! Questa roba ha bisogno di un pettine! Oh! Cos'è? Uno scherzo? Ho l'aria del macellaio! E questo cos'è? Uno dei trofei di Billy Handsome? Quale malato ha lasciato qui questa roba? Mi avete sentito? Malati del cazzo! Questa chiave dovrà aprire qualcosa! Le chiavi sono utili! Specie se si usano manette! Sul serio? La chiave della città? Una chiave? C'è qualcuno rinchiuso! Qualcuno ha buttato via questa chiave? Splendido! Una penna! Così potrò ottenere il diario di tutte le schifezze che mi capitano! Che faccio? Scrivo un rapporto! C'è anche un quaderno? Che cazzo è questa roba? Come ultima risorsa potrei spruzzarlo negli occhi di qualcuno! È ora di eliminare qualche erbaccia! Lo prenderò come prova! Anche se lo prendo non significa che mi piaccia! Ma guarda che ha trovato Jackie B! Un bel mucchio di merda! Ah! Non mi piace! Che cos'è? È morto, vero? Cos'è? Il pasto di qualcuno? Già mezzo digerito! Ma che cazzo! Sembra qualcosa che proviene da una scena del crimine! Non mi pesa portare questa roba! Se solo non puzzasse così! Oh merda! Sono felice di aver capito dove va! Iniziava a pesarmi! Ora dovrebbe succedere qualcosa? Sai che c'è di strano? Che ormai niente mi sembra strano! Che razza di statua! In cambio dell'uovo ottengo qualcosa! Che so, dei fagioli magici? Se si è crepato non è colpa mia! Pesa! Potrebbe essermi caduto un paio di volte! Questa roba non mi serve! Ho già i miei capelli! Sicuri che questa roba non appartenga a una delle ragazze del bordello? Al mio partner non piaceva questo posto! Eravamo diversi! A lui piaceva sua moglie! Credo che questo sia dica al cervellone! Questa chiave fermerà tutta questa follia! Allora, lascio tutto qui! Se sbaglio qualcosa me lo dici, vero? Quindi, questi vermi sistemeranno tutto? Scommetto che queste cose violano un sacco di norme sanitarie! Sbaglio o si sta accendendo qualcosa? Mi sa che ho attaccato la corrente! Non so se è un bene! Perfetto! Proprio quello che ci voleva! Grazie al cielo! Mi restavano pochi colpi! Cazzo, sì! Proiettili gratis! Soldi piovuti dal cielo! La prossima volta voglio tutto in una busta! Ehi! Non intendo fare favori in cambio! Oh! Qualcuno vuole aiutarci? Bloccando quelle cose non facciamo che ritardare l'inevitabile! Fra noi e loro ci sono solo quelle barricate! Merda! Sembra che oggi ci siano soldi in quantità! Prendiamo tutto! Mai rinunciare a qualche guadagno! Mi sono spiegato? Sembra che l'armeria sia aperta! Spero che stavolta mi vada bene! Altrimenti mi incazzo col primo che trovo! Forza! Prendiamoci qualche nuova arma! Qualcuno vuole imparare le leggi? Sento che farò parecchio male al prossimo mostro che incontro! Niente avvertimenti! Passo direttamente all'eliminazione! Boom! Credo che abbia giocato a nostro favore! Allora, vi avvalete della facoltà di non rispondere? Adesso non parlate più, eh? Una barricata debole è meglio di niente! Voglio un perimetro attorno a quest'area! Non reggerà come sempre! Quindi, questa è la fine? Incredibile che mi sia lasciato sorprendere così! Per come la vedo, siamo tutti sulla stessa barca! Forza! Aiutatemi! Farei lo stesso per voi! Se non collaboriamo, non ne usciamo vivi! Devi tenere gli occhi aperti! Pensavo sapessi cavartela! Ti hanno colto di sorpresa, eh? Hai preso la targa di quello che ti ha messo sotto! Puoi descrivermi il tuo aggressore? Cerca di restituirmi il favore o questa è l'ultima volta che ti aiuto! Basta lamentarsi! Alzati! Abbiamo da fare! Quei figli di puttana pagheranno per quello che hanno fatto! Gliela farò pagare! Hai capito che ti servo, vero? Solo perché mi hai aiutato non significa che sono in debito con te! La prossima volta potresti cercare di fare più in fretta! Arrendermi? Io sono Jack Vincent! Cazzo! Non mi arrendo! Non lo farò mai! Mi prendete per il culo? Questo è uno scherzo! Orribile! Mi sa che la situazione è peggiorata! Mi vengono in mente diversi posti dove ficcare questa roba! Luogo sacro! E poi? Qualche vermone gigante viene a prendersi i suoi piccoli? Aspetta, aspetta, aspetta! Cosa? Credo che questa valga come attività di polizia! Questi robot non possono rimpiazzare i veri poliziotti! È ora di chiamare i rinforzi! Oh, sono già qui! Spari bene, scatoletta! Ce l'hai con me? Allora ce l'hai con tutto il dipartimento! Noi sbirri ci diamo sempre manforte! Il mio vice si sta occupando del problema! Questo dovrebbe facilitare il controllo del nemico! Chissà quanto resisterà dopo aver preso qualche colpo! Forse ora la mia vita sarà meno difficile! Causa del decesso! Trauma da impatto! Adesso non parlate più, eh? Ecco quello che si dice! Il forte braccio della legge! Adesso chi è che rugisce, eh? Silenzio! Qui si parla soltanto quando lo dico io! Perché voi stronzi non andate da un'altra parte? Speravo di tirare un attimo il fiato! Invece devo vedermela con delle polpette incazzate! Queste orribili palle di carne non si fermano mai! Come lo fanno tutto quel casino? Non hanno neppure la bocca! Non si stancano mai di rotolare in giro incazzati! Qualcun altro sente un battito d'ali! Questa è la penultima cosa che volevo! L'ultima è la disenteria! Fatevi sotto, stronzi volanti! Sono pronto! Cerchiamo di essere ottimisti! Ce l'hai con me? Chi cazzo è? Che succede? Un attimo! Intendi dire che questi cadaveri sono in realtà gli abitanti della città? Cazzo! Come facciamo a rimettere tutto a posto? Ehi, Floyd! Sembra che tu abbia affrontato l'incontro della tua vita! Sei ancora vivo! Cazzo! Allora forse sei magico davvero! Miss Rose! È un piacere vederti! Oh, questo posto? Per me è una seconda casa! Ti rinchiudiamo e buttiamo via la chiave! Che posso dire? Ti sei messo contro il detective sbagliato! Mi è familiare nel senso che conosco qualcuno che si allena qui! Sembra una cosa facile! Ehi, amico! C'è la fregatura nel tuo suggerimento? Jackie Vincent è sul caso! Ehi, io sono felicemente sposato! Non puoi provare nulla! Ti hai chiamato insignificante? Fottuto uomo di merda, ombra del cazzo! Ah sì? Vedremo! Io non sono ancora pronta ad andarmene! Io vado avanti! Sono un testardo figlio di puttana! Non ti ho detto che hai il diritto di restare in silenzio! Ecco fallo e non rompere i coglioni! Eppure, io soffrivo ben prima che tu spuntassi fuori! Eravamo solo pedine del tuo gioco di merda! È il nascondiglio di un serial killer! Visto quanto spacca la mia spada magica? Questa volta la legge non è dalla tua! Ma lo sai chi sono? Sono un cazzo di samurai assassino! Com'è essere fatti a fettine? Non avevi speranze! Ehi! Ti piace il mio nuovo manganello? Questa te la sei cercata, dai! Fatevi avanti! Vi faccio a fette! Vi faccio tutti a fettine! A chi tocca! Visto? Non mi servono armi da fuoco! Che bel coltello! Se questa fosse una spada normale, sarei molto deluso! Fra poco ci saranno un sacco di cadaveri decapitati in giro! Forza! Andiamo! Mi annoio! Spero che la destinazione non faccia schifo! Da qui la città sembra più bella! Finalmente un po' di tregua per i miei piedi! Ciuf ciuf! Andiamo! Io non vado mai in treno! La gente ci piscia su! Attenzione allo spazio fra treno e banchina! Non vorrei che qualcuno si facesse male! Forse dovrei restare sul treno! Almeno saprei sempre da che parte arrivano! Ma che cazzo! Cazzo! Cosa è successo? Qualcuno mi ha drogato! Oh cazzo che roba! Per forza poi mi viene il mal di testa! Quando ero in quello stato tutto era diverso! Come quando esagero con la birra! Qualcun altro ha le vertigini? Mi viene da vomitare! È stato fantastico! Quegli stronzi non potevano farmi niente! Sapete la cosa strana? Inizio ad abituarmi! Merda! Guarda che fine fanno! Ci vorrebbe una birra! E la sei proprio andata a cercare eh? Ecco una linea che non potete superare! Vediamo un po' come riescono a cavarsela! Vieni avanti! Saluta la tua cazzo di faccia! Questa può essere considerata istigazione? Oh! Che cazzo è successo? Ehi! Ma non ero da un'altra parte un attimo fa! Beh! Un'esperienza interessante! Ma sono sotto terra? Perché così sembra! Mi vedevo già in tanti piccoli pezzi! Non ci ho pensato! Questa merda è tossica! Vediamo un po' che succede! Quest'area è inagibile!